Antonio, un appuntamento quello di domani sera, 19 di agosto, un giro nel centro storico. Sì, riprendiamo dopo tanto tempo le passeggiate nel centro storico, per la prima volta sarà in serata, perché generalmente le facevamo io e Gianluca Facente di domenica al mattino. Abbiamo approfittato della pausa di ferragosto, in quanto sono tornati tanti i nostri concittadini che abitano al nord e ne approfittiamo per far vedere le bellezze del centro storico. Ma credo che non ci siano soltanto crotonesi e anche un po' di turisti? Sì, abbiamo già avuto l'adesione di tanti turisti tramite gli alberghi, che ringrazio tramite la vostra emittente, per aver pubblicizzato questo evento, che ripetiamo sarà domani, 19 agosto, alle 18.30, con punto di partenza al Bar Italia e la partecipazione, come tutte le nostre iniziative, è gratuita. Una bella idea è quella della passeggiata nel centro storico, perché abbiamo tanto da far vedere. Forse un centro storico da recuperare. Il centro storico di Crotone è uno spaccato molto, molto importante di vari periodi. Potrebbe essere rivalutato e ripreso come è successo in altre aree d'Italia. Questa iniziativa rientra nel programma della Fondazione Santa Critelli, Ollus? Sì, è l'iniziativa a cui ci teniamo in modo particolare, in quanto riusciamo a portare un bel numero di nostri concittadini nel centro storico per fare vedere le bellezze del nostro centro storico. Grazie. 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 Grazie a tutti.